Con Fortunato Busana, Presidente della CL di Bergamo, andiamo subito a parlare di quello che riguarda la cittadina orobica, dove si è insediato il nuovo Presidente della provincia. Fortunato, avete già avuto modo di incontrarlo? Non abbiamo ancora avuto modo di incontrarlo, abbiamo chiesto ufficialmente un incontro come CUPAV, così come abbiamo chiesto al nuovo consigliere con delega alla caccia, Denis Flaccadori. Mentre il Presidente Rossi a giorni si farà sapere, sulla base della sua agenda, la sua disponibilità. Avete delle priorità sul tavolo da domandare o da discutere con lui? Abbiamo parecchie cose da chiedergli, soprattutto che politica venatoria vuole portare avanti e abbiamo anche una proposta che riguarda il centro di raccolta degli animali selvatici. E per quanto riguarda le cacce tradizionali cosa ci puoi dire? Il nostro distintivo ha al centro il fringuello. Il fringuello è nel nostro cuore e insieme alla peppola fa parte delle specie cacciabili in deroga e noi vorremmo che queste cacce tradizionali non finissero e vorremmo portare avanti le nostre istanze insieme alla regione Lombardia in Europa. La scorsa settimana abbiamo però parlato con Gino Marini e Carlo Bravo parlando dell'incontro che c'è stato in regione con l'assessore Fava e con la dirigente Bonomo dove è emersa la questione che di cacce tradizionali, di deroghe non se ne parla. E' vero, per ora. Noi non molliamo come non molliamo mai. I roccoli, le deroghe sono due capisaldi delle nostre tradizioni e noi le tradizioni le vogliamo mantenere. Qui in fianco a me ho Tiziano Cominassi, presidente ACL di Gardone che non ha avuto problemi a sdraiarsi davanti insieme ad altri amici dell'ACL, a sdraiarsi davanti alla regione Lombardia per stimolare sia l'assessore sia il consiglio regionale sui problemi tuttora aperti. Io devo fare un ringraziamento a Cominassi. L'assessore dimostrativa è stata, lo ricordiamo, fatta in occasione del presidio che l'ACL ha voluto fare prima dell'incontro con l'assessore davanti al Pirellone. Prima dell'assessore direi che è stata propedeutica. Io penso che senza la nostra manifestazione non ci sarebbe stato nessun incontro. Comunque non vogliamo fare i primi della classe, vogliamo solo dire che lottando qualche cosa si porta a casa. E condanno vivamente chi sui siti e sui blog si è permesso di schernire queste persone che ci mettono la faccia. Tiziano Cominassi non era solo insieme ad altre persone, ad altri cacciatori fieri di esserlo dell'ACL? Sì, non eravamo tantissimi ma ci siamo fatti vedere, ci siamo fatti sentire. C'erano anche un piccolo gruppo di altri cacciatori che ormai quando ci muoviamo noi ci seguono. Evidentemente la base dei cacciatori la pensa tutta la stessa maniera. Abbiamo avuto più volte l'occasione anche con il Presidente regionale di parlare della presenza dei NOA nel territorio bresciano che ormai è quasi giunta alla scadenza dopo un mese di operazione Pettirosso. Che cosa ha portato poi alla fine? Ha portato che oltre ai Pettirossi si vanno a controllare i cacciatori a tappeto e quindi si va a toccare una realtà che non può fuggire anche perché non ha niente da nascondere. È molto comodo andare a controllare un capanno che non si può muovere. Sarebbe opportuno invece andare a guardare dove ci sono le reti, dove ci sono gli archetti e dove ci sono quelli che con i cacciatori non hanno nulla a che spartire. Abbiamo visto però anche sui siti internet, nel web, tanti cacciatori vantarsi di grandi abbattimenti. Forse questa non è una grande immagine per una caccia moderna e sostenibile. Non condivido assolutamente questo modo di ostentare la loro caccia e soprattutto non rispettare quelle che sono le regole. Noi siamo per la caccia, siamo per i nostri diritti però nell'ambito delle regole. Tutto quello che va oltre non fa bene alla caccia. Anzi dico a questi cacciatori se per favore possono oscurare certe immagini che danneggiano la figura e la dignità del cacciatore. Allora Tiziano Cominassi è stato, abbiamo detto, protagonista di questa manifestazione e presidio davanti al Pirellone. Perché vi siete stesi a terra? Guarda Beppe, questa è stata una scelta per dare un senso ancora più forte a questo presidio. Il mio significato che ho voluto dare a questo standard in terra lasciando comunque che chi doveva andare a lavorare nel giorno di Lombardia passasse è stato il fatto di dire così la caccia muore e con essa muoiono le tradizioni, muoiono gli artigiani, muoiono aziende e muoiono addirittura i redditi di certe famiglie che sulla caccia sono sempre vissute senza fare niente del male all'ambiente e agli animali. Ricordiamo infatti Tiziano che Brescia, la Valtrompia offre tantissimo lavoro, offre occupazione a migliaia e a centinaia di persone e soprattutto anche dei giovani. Io vorrei invitare anche gli addetti al settore, ossia gli armieri e i produttori a farsi vivi in questo momento. Perché con una crisi del genere imperante in tutta Italia, in tutta Europa, eliminare un'altra fonte di reddito, un'altra fonte di PIL per l'Italia sarebbe un guaio enorme. Fortunato, per concludere che notizie abbiamo dalla regione sul fronte dei roghe? Noi abbiamo aperto ancora tre punti che abbiamo espresso durante l'incontro all'assessore in maniera unitaria. Vorremmo che queste risposte non giungessero fuori tempo massimo. In effetti c'è un problema incombente che è quello degli anellini. Anellini sì, anellini no. Stiamo aspettando una risposta per quanto riguarda l'emendamento al decreto per i richiami vivi. Non ultimo il discorso dei roccoli. I roccoli sono le nostre cattedrali verdi. Non vogliamo perdere 600 anni di storia. Intanto in questi giorni prosegue fino al 20 novembre l'aggiornamento a questa banca dati per l'iscrizione dei nuovi richiami vivi. Sì, questo è il termine che ci è stato concesso, una proroga praticamente di un mese per poi completare dal punto di vista pratico e tecnico entro la stagione venatoria 2014-2015. Questo è un primo risultato positivo. Adesso attendiamo, non a lungo, perché se no saremo costretti a ritornare in regione Lombardia, questa volta saremo in 2000.